Il mondo del vino italiano è cresciuto moltissimo negli ultimi decenni e sicuramente trainato da una qualità di prodotto e da una grande immagine sia a livello di brand che di legame con il territorio. Ad oggi con una crisi economica in atto fortissima bisogna comunque prestare attenzione da un lato a far crescere le vendite e dall'altro a strutturarsi e razionalizzarsi per un mercato globale sempre più difficile. Quindi ho voluto partecipare a questo master perché le operations e quindi una gestione di tutta la supply chain e quindi di tutta la parte operativa aziendale è importantissima perché si deve cercare di ottimizzare tutto quello che è interno all'azienda per riuscire a dare un servizio al cliente sempre migliore. Da questo master ho sicuramente colto molti spunti riuscendo a confrontarmi con colleghi imprenditori e ovviamente anche con la docenza per prendere idee che possono essere trasferite nella propria azienda con un vestito su misura. Non si può fare un cocktail in colla facile e banale ma in più delle volte si deve adattare con un vestito su misura, c'è queste idee per riuscire a ottimizzare i propri processi. L'obiettivo finale deve essere sempre fare un vino di grande qualità e portarlo al proprio consumatore, al proprio cliente nel migliore dei modi. Questi processi devono essere semplici, trasparenti e non creare intoppi perché alla fine noi dobbiamo fare un buon vino. Questa è la cosa più importante.